Tutti quanti seguitemi Tutti quanti seguitemi Io non la chiamerei follia Ho una voglia di evadere che mi porta via Lavoro troppo e non sono mai a casa mia Come lo stress te l'ho detta è anche colpa mia Se avessi fatto il corso di farmacia A quest'ora avrei una laurea e comunque sia Dimmi quanti laureati hanno la garanzia Di non finire lavapiatti in pizzeria Piacere mi chiamo Fibra, lei è la mamma Lo sa che è sua figlia, ha 16 anni e già una cagna E gira in classe con la pancia mezza nuda Davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda Il mio stipendio ha somiglio in utopia Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia Magari in man rosso, non dirmi che hai vietato Sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il notti stomaco Certi fatti mi danno il vomito Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il notti stomaco Certi fatti mi danno il vomito Quattro giorni a Canada Day Neanche immagini le cose che potrei Potrei spararmi un colpo in testa Se mi sveglio una mattina di fianco a un gay Potrei, potrei perdere la memoria Se vedo la mia ex che si è fatta suora Potrei demolire questa becchia scuola Potrei allagarla con la carta stagnola Potrei non avere compagnia Per copersi milioni alla lotteria Ma dimmi tu ci credi alla lotteria Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria Ho chiamato Vanamark in segreteria Per vedere quanti soldi mi vanno via Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia O di Castriscia I nuovi di questa è democrazia Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il notti stomaco Certi fatti mi danno il vomito Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il notti stomaco Certi fatti mi danno il vomito Hai visto una ragazza scendere dalla moto Secondo Europa è morta cadendo nel vuoto Con un ragazzo che pensava le facesse per gioco Ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo Giri macchina faccia sfatta Mentre guida il telefono metto la cravatta Cinque morti su dieci per guida distratta Quanta assurda statistica che ce l'ha fatta Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia Non ho mica il bandotto a chi dà la caccia La senti questa voce, la devi questa faccia Io sono Fabri Fibra, carce straccia Non voglio figli e miei lo sanno Perché non mi fido più delle scuole che fanno Questi tetti che crollano ma dove vanno Non mica posso contare i bambini morti ogni anno Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passano di stomaco Certo i fatti mi danno il vomito Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passano di stomaco Certo i fatti mi danno il vomito Tutti quanti seguitemi Tutti quanti seguitemi Ho fatto tipo fuori il bambini Grazie E DVOP Tutti quanti seguitemi Tutti quanti seguitemi Tutti quanti seguitemi 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 Tutti quanti seguitemi Seguitemi Non mi passa mal di stomaco Senti fatemi danno il vomito Mi piugge tanto tu No io devo... In questo momento devo toccare qualcosa Fatemi toccare Ma tu sei un uomo un po' Sì, guarda Cioè il cazzo più grosso del mio Radio ID Italia Ascoltaci su www.iditalia.com ID Italia La radio degli italiani nel mondo Eccoli, eccoli Ecchime, ecchime, ecchime Sono 6904 oggi Di una giornata solatissima Oggi tra l'altro, ricordiamolo Fra circa 20 minuti Cercheremo di affacciarci dall'oblò Di Radio ID Italia Dei suoi studi Per cercare di ammirare La cosiddetta Eclissi, eclisse Eclisse di sole Qualcosa che capiterà nuovamente Fra 21 anni, con tutto il bene Che posso volere alla tecnologia Di medicina estetica E alla mia voglia di essere Evergreen Affetto dalla sindrome di Peter Pan E chi più ne ha più ne metta Penso che oggi sarà un'occasione Unica, irripetibile Per il sottoscritto Il sottoscritto si chiama Enrico Questa è Radio ID Italia Come avrete capito Anche dal jingle Proposto dal nostro amico Bogani e la sua squillante La Radio Firenze Quindi Come fare? Come fare a non esordire? Ricordando che In questa rassegna stampa Si parla anche di Di calcio Quindi Non so Oh Fiorentina Di ogni squadra Chi voglia reggirà Oh Fiorentina Un battuto Un cambiita Con valore Per il loro riconforto Di vittoria Ricorda che Per calcio E' tua la storia Maglia viola Lotta con vigore Per essere Vigile Un sabanto E' tua gloria Sul tuo bestillo Scrivi Forza e cuore E mostra Sarà sempre La vittoria Oh Fiorentina Di ogni squadra Ti voglia reggirà Oh Fiorentina Ho fatto E' tua gloria Con valore E' una riconforto Di vittoria Ricorda che Per calcio E' tua storia Forza e cuore Questa vita E' Radio I d'Italia Eh sì amici Non si può iniziare Prescindendo Dallo sport Più amato Dall'italiani Dobbiamo ricordare I risultati di ieri Due su cinque Non è esattamente La media Che ci Eravamo prefissi Il Torino Quanto meno Ha lottato Per quanto riguarda La Roma Devo dire Sono abbastanza diviso Anche se Insomma Il Torino E' gemellato Con la Fiorentina In uno storico Gemellaggio Non è vero Federico Intervieni pure in diretta Qui su Spreaker Anche per Dire la tua Noi abbiamo vinto Ieri 1 a 0 Con il gol del nostro capitano Il polacchissimo Kamil Glick Abbiamo cercato Di fare di tutto E di più Quattro punte Non si può rimproverare Nulla Al Buonventura Tutto al più Si potrebbe Avere qualcosa da dire Su Benassi Che magari Se avesse avuto Un po' meno foga E avesse pensato Un po' più Non so A qualcos'altro Magari la figa E a questo ora Non saremo qui A commentare La onorevole Eliminazione Per carità Della Juve Già promossa L'abbiamo parlato Quindi i Juventini Col complesso Ce l'avete sempre con noi Sono serviti Salutiamoli Tra l'altro Comunque abbiamo anche Gianluca Alle prese Con la sua Nuova bici da corsa Nel nord della Polonia Sta testando Le prime salite Io gli auguro Di avere Tanto tanto piacere Da questo sport Incredibile Questa metafora Della vita Però Dobbiamo restare Nell'argomento Quindi abbiamo detto Napoli avanti tutta Complimenti anche Al nostro radioascoltatore Nicola Ma anche alla società Studio Top Web Che tifa In maniera spudorata A Napoli E il Napoli Non ha sofferto Neanche la sconfitta Che sarebbe andata Anche bene Quindi è passato Con 1-0-0 Ribadiamo 21 minuti Sono bastati Per mettere a nudo La pochezza Del portiere Purtroppo Polacco Skorupski Che ha trovato E incappato In una giornata Totalmente In cui veramente Le mani sembrano Delle saponette Io cerco di empatizzare Perché Dilettandomi a livello Molto ma molto amatoriale A un'età Molto ma molto più Vetusta Del signor Skorupski Capisco esattamente Quando a volte Si pizzica La cosiddetta Giornata negativa Ragazzi Sono veramente Hazziare Comunque Ricordiamo anche I nostri ascoltatori Che Potete seguire La nostra trasmissione E' vero Cristina Lo stai facendo anche tu E' vero Cari amici Tramite www.iditalia.com Che è la nostra Pagina La nostra Come è che la chiamano Landing page Whatever Insomma Comunque stateci lì Date un'occhiata Abbiamo articoli In varie lingue Anche in lingua polacca Abbiamo introdotto Un nuovo tema Per me molto attuale La medicina estetica Ultimamente Stiamo parlando anche Del problema annoso Della cellulite Tra l'altro Anche lì In lingua polacca In lingua italiana Quindi medicina estetica Made in Italy Chi più ne ha Più ne metta Aperti anche Ai vostri contenuti Inizieranno i contenuti Di un Caro amico Che scriverà anche Di leggende del calcio Comunque Parliamo di santi Di patroni Di sagre Insomma Ogni tanto Se potete Cliccando Su uno di quei video O su quei Sulla pubblicità Che appare Sappiate Che State facendo Un servizio Cioè quando diventerete Milioni Per ora siete Non pochissimi Perché oltre mille Le pagine aperte ogni giorno Con dei picchi di 2002-2003 Ma noi vogliamo arrivare A dieci volte tanto Per avere un risultato Minimamente soddisfacente Bisogna avere 20.000 Pagine aperte in un giorno E magari Mille Erotti Visitatori Unici Ce la faremo Col vostro aiuto Ce la faremo Ma oggi E credo Spero Ci siano già Alcuni di voi Sintonizzati Di origine Veneta Che capiscono Questa lingua Ci divertiremo Un pochettino A sviscerare La bellezza Della lingua Veneta Soprattutto nel momento In cui il Veneto In generale Si incazza Cristina tu sei romagnola Però so che Hai lavorato O lavori tuttora Nelle zone Di Conegliano Quindi sicuramente Per te Questa lingua Non sarà così astrusa Come per il sottoscritto Anche se Sto facendo dei corsi Con questo amico Del Monseice E quindi C'è uno scherzo Che è proprio da prete Quello di Chiamare A nome di Equitalia Penso che Solo loro Potevano Essere così Infidi Infingardi Ebbene sì Sono loro Non sono loro Ragazzi attenzione Perché io e Paolo Abbiamo trovato Un ennesimo coglione Sì È una bastardata In realtà All'inizio Dova essere L'incubo italiano Dove noi ci fingiamo Funzionari di Equitalia Eccetera Questo qua L'abbiamo imbarcato Talmente tanto Che a un certo punto Si è letteralmente Cagato addosso Quello che state per sentire È tutto vero Cioè è successo In 55 minuti Stavamo per rovinare Una famiglia No veramente Ragazzi Sono stati male Alla fine abbiamo dovuto Dirgli Guarda che è uno scherzo Ma non so io Come ha fatto Perché poi sono successe Delle cose All'interno dello scherzo Si sentiva proprio lui Che deglutiva Sai dal terrore No Sì Gluc Gluc No perché Abbiamo azzeccato Una serie di cose Che lui ci è cascato E fatecelo sentire Da quando Mister Tass È salito al governo Gli italiani Vivono costantemente Una serie di incubi Che incombono al telefono O nella cassetta Della posta Multe Tasse insensate Carte di credito clonate Verifiche fiscali E le temutissime Cartelle verdi di Equitalia Lo zoo di 105 Noto manipolo di figli di mignotta Ha deciso di utilizzare Questi incubi E trasformarli In scherzi E trasformarli In scherzi E trasformarli In scherzi Telefonici Più malvagi Di una notte di sesso Con Mara Maio Nasce Nasce L'incubo italiano Nasce L'incubo italiano Oggi Nell'incubo italiano Presunta Associazione Mafiosa Grazie alla segnalazione Di un nostro ascoltatore Scopriamo Che hanno assegnato Una famiglia toscana Lo stesso numero Di telefono Di una pizzeria Che è stata chiusa Per motivi misteriosi Da questo spunto Da questo spunto Parte uno scherzo Infame Durato ben 86 minuti Pronto? Sì pronto Parlo con La proprietaria Del ristorante Pizzeria Non esiste più Allora signora Pronto? No Aia Pronto? Pronto signora Salve E gliel'ho detto prima Non esiste più Ci deve essere un errore signora La sto chiamando adesso Per la prima volta Pronto? Aia Qualcuno Perché picc'anzi Ho telefonato E c'era una signora Burbera Che mi ha messo giù La cornetta Possibile che abbia Sbagliato il numero O sto parlando Se mi dice con chi vuole parlargli Lo dico Se ha sbagliato il numero No Allora io sto cercando I titolari del ristorante Pizzeria No no Questa è un appartamento Ah quindi lei svolge Attività di ristorazione All'interno di un appartamento No assolutamente Questo è un appartamento privato Io non svolgo niente No ma qua risulta Le spiego E gliel'ho detto Risulta La pizzeria non c'è più Questo era il numero della pizzeria Però la pizzeria non esiste più Ah quindi voi abitate in una pizzeria? Mi scusi ma come devo fare per farmi aprire? Io non abito in una pizzeria Abito in un appartamento Ho solamente il numero della pizzeria Cioè lei quindi svolge l'attività di pizzeriolo All'interno di un appartamento? No Io non svolgo niente Sto dicendo che questo numero Era il numero della pizzeria Che esisteva 5-6 anni fa Ora la pizzeria non esiste più La telecom mi ha dato questo numero Per mia sfortuna Ah quindi avete costruito un'abitazione All'interno della pizzeria? Abbia pazienza Se lei ne vuol capire mi capisce Se no li riattacco Allora prima di tutto Mi scusi il secondo Io sono molto garbato e gentile Ma forse evidentemente Anch'io Anch'io Non ha ben colto con chi sta parlando No E lei che non ha colto Quello che gli sto dicendo No è lei che non ha colto Con chi sta parlando Per quello che mi si rivolge In questo modo Allora mi faccio capire Poi le dico un attimo Con chi sta parlando Lei abita nella pizzeria? No io abito in un appartamento Per mia sfortuna Ho solamente il numero Che era prima della pizzeria Cioè lei Ma era sua la pizzeria? No assolutamente E lei come fa Ad avere questo numero di telefono? Eh beh vado a dirlo alla telecom Perché me lo chiedi a me Ti do lei? Perché io ho chiamato Il numero di telefono della pizzeria Ma io le sto dicendo Che la pizzeria non esiste più E per mia sfortuna La telecom mi ha appicciato Il numero della pizzeria Che non esiste più Io sto in un appartamento Io con la pizzeria Non c'entro niente Cioè lei quindi Non è pizzaiolo? No io non sono pizzaiolo No E la pizzeria Che fin ha fatto? Mi scusi Eh non so A presente quando non ci sono più Più introiti Una cosa si chiude Avranno fatto lo stesso Ma io questo non glielo so dire No no Non mi torna qualcosa Mi scusi Va bene Non le torna? Non mi torna questo passaggio Le spiego Io sono il sovraintendente Righetti Se vuole segnalare Lei faccia come vuole No no io non faccio come voglio Lei fa come voglio io Le spiego chi sono No 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 Mi lasci parlare cortesemente Un secondo Mi scusi Pubblica polizia Sono un polizio Non sto prendendoci per il culo Perché lei abita in una pizzeria No Abita in un appartamento Lei abita in una pizzeria Non mi prende in giro Non sto prendendoci per il culo Ma vado a cacare Ma come si permette? Tutto Aia Aia No dai Vuoi sapere come va a finire? Sì Mamma mia Rimani nello zoo di 105 Su di zoo In Italia La radio degli italiani nel mondo Nel mio bar ho scelto Saicaf Perché? Perché è buono Mmm che aroma Saicaf La scelta di gusto Ed ora La seconda parte di L'incubo italiano Oggi nell'incubo italiano Presunta associazione mafiosa Final round Fight Lei mi scusi si rende conto che ha appena sbattuto il telefono in faccia al sovraintendente della polizia di Siena E che sta venendo in questo momento a casa sua Ma lei sta accettando Lei sta accettando Io Senta Lei forse non ha capito che qua si sta svolgendo un'indagine su una pizzeria Che è praticamente scomparsa dal nulla da cinque anni Soprattutto agli occhi del fisco Noi stiamo facendo un'indagine che ha portato il nostro sovraintendente a scoprire che questa pizzeria era legata a questo numero di telefono che noi abbiamo appena fatto Stiamo cercando di capire che cosa sia successo a questa attività Se lei sbatte il telefono in faccia al nostro comandante Allora se lei Lei può controllare tranquillamente Siccome è un pubblico ufficiale Lei controlla i registri di residenza Vede noi stiamo qui da circa due anni Se la pizzeria è spesa da cinque e noi abbiamo questo numero Cosa ci attecchiamo noi? Ma mi scusi Ma mi scusi Adesso io le sto parlando da Dico Non da amico perché non ci conosciamo Ma siccome io conosco molto bene il sovraintendente della nostra centrale qua È una persona che se lei risponde in un certo modo Gli parte la brocca E questo sta arrivando a casa sua e la vuole arrestare Noi le abbiamo detto tre volte che non c'entriamo niente Ma io capisco Ma lei faccia la persona collaborativa Mi scusi Deve capire Gliel'abbiamo spiegato in tutti i modi Lei non può pretendere Mi scusi Lei non può pretendere che noi sappiamo e capiamo le cose in una telefonata di tre minuti Le ha fatto delle domande Doveva cortesemente rispondere Mi può spiegare esattamente che cosa è successo Perché lei vive in una pizzeria Mi scusi Noi non viviamo in nessuna pizzeria Se lei viene e cerca la pizzeria Non ci troverà nessuno Perché abitiamo in un'abitazione privata E che è in un'altra zona anche rispetto alla pizzeria Non è nemmeno nel solito posto Guardi mi scusi Se ha pazienza un attimo Adesso provo a contattare il commissario Io lo ripasso Prima che questo salga in macchina e venga a casa sua Perché veramente Perdiamo del tempo Noi perde del tempo lei Perché questa persona Allora glielo posso passare Le chiede scusa Risponde a due domande E la concludiamo qua La ringrazio molto Rimaga un attimo in attesa Un attimo solo Grazie Attenzione Buonate 15 Pietro 535 Il proprietario ci ha chiamato al 113 Pronto? Pronto Lei è il figlio del signore di prima? Sì Che faceva Mi ha fatto del sarcasmo Inappropriato Salve Senta Non so Gli ha già fatto delle domande Il mio appuntato? Sì Gli ha già spiegato Quello che doveva spiegargli? Certo Perfetto Allora cerchiamo di arrivare a un punto Allora io nel frattempo Mi sono collegato Alla Telecom E sto notando che effettivamente La vostra abitazione è Ubicata in un'altra zona Rispetto all'indirizzo della pizzeria Sa che probabilmente Ma le arrivano delle bollette alte? Le bollette si arrivano normali o no? Sì no Le bollette arrivano normali Non c'è solo mai delle telefonate Scusi un secondo Che guardo In Germania? No In Germania sì C'ero io In Germania Quindi è lei che fa le telefonate in Germania? No No Io sono stato Residente per due anni e mezzo In Germania Ah quindi andavano verso di lei Le telefonate in Germania? Sì sì Le telefonate in Germania Tutte Sicuro? Lei che attività svolge in Germania? Non mi fa così Tanto lo potrei scoprire No no Io ho fatto Ho svolto il cameriere in Germania Cameriere in Germania In una pizzeria in Germania? Sì Ah Aia Senta A questo punto Visto che lei comunque mi rimane nell'ambito del discorso della pizzeria Vorrei fare un paio di chiacchiere con lei se non le spiace Sì sì Io non ho problemi Posso Se le mando una civetta Ovviamente di Morghese A prenderla È un problema per lei Ha da fare? Posso venire pure io Senza mi mandiare nessuno a prendermi Eh lo so però Vista la situazione In questo momento mi è d'obbligo Purtroppo Sì Va bene Lei conosce un signor Latorre? Ma no Non ho idea di chi sia Va bene Un attimo Allora le passo Le passo l'appuntato E si mette d'accordo con lui per farla venire a prendere Un attimo Lorusso Fammi una proposta Mi vai a prendere Poi adesso ti spiego bene Mettetici d'accordo per piacere Lei quindi mi conferma Lei ha lavorato in Germania come pizzaiolo Ha detto? No Io ho fatto a cameriere Cameriere Ma capisci che c'è qualcosa di strano Come mai lei Lo riesco Scusi eh Se No no Ci mancherebbe Non riesco a capire questo legame Lei non conosce il signor Latorre È sicuro Io non ho idea di chi sia Cioè il mio viaggio in Germania È legato a Esperienze Personali Non è Non è stato di Enrico Venti non l'ha mai sentito nominare? Neanche Lei vabbè insomma Glielo dico in via confidenziale Enrico Venti è È un pluri ricercato Si è nascosto Nelle zone di Ulignano e San Gimignano Per qualche anno Dal 2000 Più o meno E 9 Fino al 2014 Sende guardi Mi dia un quarto d'ora La passo a A prendere Va bene? Va bene La ringrazio eh Arrivederci Ma farà poco salve Occhio Occhio eh Adesso chiamalo tu come Balordo Paolo Ma non vuoi dire che è uno scherzo Dai dai Poi gli diciamo che è uno scherzo Pronto Jacopo Prego Che stai facendo? Come? Stai parlando con i carabinieri No no Mi scusi Non la sento bene Stai parlando con i carabinieri Si Non ci deve parlare La pizzeria non esiste Tu non sai noi Come? Tu non sai niente della pizzeria Io Io ho idea di cosa sia Ecco non dire niente Adesso prendi Esci e vai E corre Fuori Una volta tu dico E' uno scherzo Jacopo Jacopo Si E' uno scherzo Di Radio 105 Che pezzi di merda Jacopo Ah Jacopo Oh Pronto Sei vivo? Si Quasi Quasi Ega oh Sei ancora nascosto Ti sei cagato addosso? Eh bene Non sto Se vuoi distruggere la giornata Ad un tuo parente Un tuo amico O semplicemente qualcuno Che ti sta sul cazzo Mandaci tutti i suoi dati A popipopizoo At gmail Punto com O manda un sms Al 342 411 5105 E lascia che lo zoo 5105 Cometta un ennesimo E' verato Scherzo telefonico Ma scusa Ma Manto Ha incagnato tutta la parte In cui ha azzeccato I controlli della terra E' troppo lungo E' troppo C'ha venuto E' un cognome A trans Di una che gli ha fatto Il controllo interno Come il numero di controlli In l'intocchio Paolo Paolo Ascolta Fai una roba Transferisci te a Miami Che giochiamo all'otto insieme Perché sto giro Una serie di calcolità Impossibili L'opo 5105 Un saluto speciale Dallo zoo di 105 Agli amici di Radio I Di Italia E raccogliamo al volo Questo saluto 924 Chiediamo scusa Perché inizialmente C'era stata detta Dalla regia Quando ci hanno proposto Il contenuto Che si trattava di Veneto In realtà era toscano Comunque A noi ci piacciono Tutti i dialetti E per lo più E tra l'altro Ancora di più Visto che Radio Firenze L'ha fatto i nostri I jingle Stanno arrivando Anche quelli belli e nuovi Dunque Giusto per accontentare Anche gli amici veneti Che ci ascoltano Io lo troverò Quel materiale Alla faccia della regia E vi giuro Oggi stamattina Alle 6 e mezzo Al quarto caffè Che vi bevevo Mi sono pisciato Dalle risate Comunque Sarebbe anche una bella idea Segnalateci Chi vi sta sul cazzo Insomma qua ce n'è Insomma di materiale A volontà Al nostro indirizzo Di posta elettronica Che è sempre lo stesso Iditalia Chiocciolagmail.com Non c'è tempo Andiamo ad ascoltarci Questo faccia a faccia Che di solito Non lascia presagire Niente di buono Tra Lugaresi Ma Lugaresi È il vecchio presidente Del Cesena E il famoso Veneto Bestemmiatore Ritorna il faccia a faccia Questa volta Lugaresi Il famoso benzinaio Se la piglia È automatico Deve aggiustarlo Se la piglia Con il nostro eroe veneto Ritorna Bestemmiaman Lo zoo di 105 Presenta Faccia a faccia Faccia a faccia Faccia a faccia Il modo migliore Per far incazzare qualcuno Ma è tu Che Che sola rabbia Porco Oggi Nel faccia a faccia Abbiamo usato La voce di Pronto? Porco Che mi baglia La sua Ma porco Che Morco Quelle Poglie Tra cancro Tra cancro Tra cancro Fanno parlare Ma cosa vuole A gara Chi che per se Ma di C***o Cancro Schifoso Quella Tana Lasra C***o Voto Che non avanti C***o Vale che mi c***o Ho fatto un corso De pessimologia C***o C***o Ho vinto un master A compilare Nel c***o Puttana La cancro Ma dov'è il caresio? Brutto schifoso Infame Assassino Ladro Cancro Anche così Sì Puttana Ancora Ancora Sono luceresi Arrivato Ma Pocco A metter In c***o La cancro Non funziona E' ficcata In c***o Hai capito C***o C***o E' ficcata La via C***o Porco E' quel demonio Dei c***o A cancro Ad un c***o Puttana Avanti A lucaresi Quando lo mettiamo Dopo la pubblicità C***o Non si è sentito niente Maestro Continuava a dire canchero Mi sa che era per i segni Eh sì Lo zodi 105 Volevo sapere Volevo sapere Se l'Italia Che ha vinto Contro l'Inghilterra E' l'unico che non lo sa Perché a me Sto troppo assioso Invece di guardare A partita Mi sono visto Una puntata Della signora In giallo Guarda è pieno Ferrari Qui a Palma Gli è la voce Che siete un depravato E' vero? No assolutamente no Ci mancherebbe Perché se devi Gli è una storia Che dicono Che ti siete fidanzato Con una di 85 anni Di Venezia Ah sì? Mamma mia Solo per rubare L'eredità No non è il mio caso Poi quando C***o ero in letto In punto di morte Perché c'ha Palla mano Perché ti ha fatto Firmare il testamento A Roberto Ferrari E non andrebbe Neanche bene Ferrari I parenti Sengono tutti fuori Incasati E ti siete andati In Baccarit E altri schei Un film di Superman Esatto E adesso siete proprietari Dei 15 appartamenti Alla Giudecca S'è vero? Calmi da magari Dove li vendi? Ragazzi L'altra sera Sono andato al cinema A Taormina Per vedere un film Di Walt Disney Sì? A presentare Che era Michele Placido Il film del cinema Sì E siccome Che si è dislungato Amico Inizia a parlare male Dello Certo capito E gli ho detto A bassa voce Che Michele Placido È un coglione Non è vero Io mi ha sentito Dal palco E mi ha risposto Ferrari Ti non ti credi Noi ci crediamo Noi ci crediamo Ti faccio sentire Cosa che mi ha detto Michele Placido Dal microfono Allora Senti Senti Allora Se qualche cafone Qualche cafone Ignorante Vuole venire qua Venga qua Che l'affronto Però ti devo guardare In faccia Cafone Ragazzi Mi sto scappando via Perché Michele Placido Sei bello grosso E se mi rompe un braccio Non posso più finire Il libro dei proverbi Il libro no Il libro no Il libro basta Ragazzi Ma che finisco mai Parlai del mio libro Dei proverbi Sì che ci hai parlato Del libro dei proverbi Non è finito Sto arrivando Pagina 430 Dell'ultima pagina Sì Scusate che mi metto All'emoro Aspettate un attimo Va bene E che lei informa Qualche fa domanda Pronto? Sì pronto Buongiorno signore Sono Piero da Padova E allora? Sono scrittore contemporaneo Guardi non mi interessa So di scrivere un libro Solo della storia da Padova Che avevo solamente bisogno De domandare Che si conosce proverbi No Perché allora Senta Mi Se che dico dei proverbi Mi dite se conosce Mi dite pure Allora Parto col primo Il segreto Dei femmine Non sa nessuno Tranne che Mi V E il resto del comune No Non conosce Senta quest'altro A trincarsi Senza misura Molto tempo Lo seo non dura No Non te conosce Mia sono qua Basso Veneto Provincia del Rubio Ma me Sontrì a fare L'ultimo Sì i proverbi Qua ne abbiamo mai sentito Perché mi Sontrì a fare L'ultimo capitolo Del libro Cacapio Se la gente Conoce Mi metto solo Del libro Cacapio Non capisco Non l'ultimo Mai sentito Che dico un altro Chi va in letto Senza cena Tutta la notte Se ramena No Non conosce Libri Donne E cavai Non se impresta mai No Non conosce Se una donna Se fa pregar Non la voglia De chavar No te conosce No A dire bugie Basta un bricón Ma a dire la verità Basta un collón No Non conosce Ti troverai di qua A parte notte Mai Stai Cacapio Da che tante botte Conosce No Non conosce No Proverbi Alta Padovana Io ho dei parenti Che Stanno da che parti E lo sentivo qualche volta Ma Dai parti nostri Non si sentono Non si sentono Non si sentono Ciao belli Ciao belli Ciao fiorellino Che bello rivederte Da me un bacino Di me Che se è vero Staremo sempre insieme Perché mi lo spero Mi voglio portarti A vedere il mare E sotto a luna piena Fare l'amore Tutta vita insieme Mietti che bello Esprimi un desiderio Guardando il cielo Smetti di parlare Di amore Sentimento A gola Spiegati a me Vien qua Che te violento Quando che te penso Mi batte Forte il cuore Spregami la figa E si fa il culo Un vibratore Voglio tanti cassi Diversi Tutte le sere Perché mi piace Farmi pecorare Porta amore Santo tesidio Delirare Tira fuori Il casso Che te Fosvorare Voglio stare insieme Conti le sere Ridare Scherzare Fantasticare Finchè ti testi Rimiravo i piatti Passare le domeniche A far progetti Magna me la figa Che chi non voglia Migo solo in mente Per far la troia Mano nella mano Nel centro Come un cale Mi metto a pecorina Ti prego Fammi male Cara Ti sei la cosa Più bella Del mondo Mi vorrei stare insieme Conti Per tutta la vita Mamma mia Mi metto a pecorino Sleppi di parlare D'amore E sentimento Avrò la figa In fiamme Che qua Che te è violento Quando cose penso Mi fate Fate cuore Spregami la figa Su qualcuno Mi brattore Voglio tanti Cassi diversi Tutte sere Perché mi mi piace Farmi pecorare Porta amore Santo tesidio Delirare Tira cuore Il casso Diente Fosvorare 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 Id Italia La radio Degli italiani Nel mondo Chiediamo scusa Chiediamo scusa Ai più puritani Però d'altronde Vi è un'informazione Che campeggia Il linguaggio Utilizzato in questo programma È un linguaggio esplicito Se siete contrari Potete tranquillamente Cambiare la web radio Trovandone una Più adeguata E più consona Al vostro linguaggio Così come Il tono O i riferimenti Alle persone Sono puramente casuali E non vengono Utilizzati In modo diffamatore Pertanto I nostri personaggi Sono frutti Frutti È frutto Di una Pura e mera Fantasia Detto questo Siamo alle 9.36 Cristina Oggi non siamo molto Aulici Come tono Ma d'altronde È anche vero Che siamo a un venerdì E ricordate Che domani È l'inizio Della primavera Qualcuno mi sa dire Se domenica Cambieremo L'orologio E avremo finalmente Quelle belle giornate Dove posso andare In bicicletta Fino a tardi Fatemelo sapere Ringraziamo Per l'informazione Colori quali Saranno così Celeri E solerti Nell'informarci E adesso Passiamo un pochettino Alla vera e propria Rassegna stampa Radio In Italia News Partiamo dal giornale Dove una nostra Radio ascoltatrice Ci segnalava di leggere L'articolo di Massimo Gramellini Lo faremo con molto piacere Nel momento in cui Ci daranno un paio di occhiali Tra l'altro Non so se ho esagerato Col caffè Ma ho delle visioni Di puntini gialli Che non sono Non lasciano presagire Nulla di buono Comunque il ministro Lupi Probabilmente Ha dichiarato Me ne vado Ma lasciate in pace La mia famiglia Per la successione Spuntano i nomi di Oh figa Del Rio Lotti Dalle carte Nuove telefonate Che inguaiano il ministro Una decisione dopo l'incontro Con Renzi E con l'altro Alfano Dove hanno Sostenuto Che non era Difendibile Non era difendibile La posizione del Premier Del ministro Pardon Aiuto Frenate Questo tintin Va bene amici Quindi Ci siamo Ci siamo Ci siamo Per questo weekend Di fuoco Non vedo La chiusura La chiusura di ieri È stata positiva Più 1,6% Tra in alto Dal Saipem Che fa parte Del gruppo Eni E da tutte le energetiche Diciamo Pirelli ed Enel Chissà cosa stanno Per combinare Questi mattacchioni Birbantelli Ecco va bene Quindi vediamo 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 Se passa di mano Non passa di mano Lo scopriremo solo Cercando Ecco Mi era sfuggito Però con l'occhiale Così un po' messo In questa maniera Posso dirvi Che sul mercato Dei cambi L'euro è sostanzialmente Stabile A 1,06 E 32 Contro 1,06 36 del giorno precedente 128,54 Lo Yen Contro 128,61 Quindi anche lì Molta calma piatta Mentre l'apporto Fra dollaro e Yen Di 120 Anche lì stabile Nuovo calo Per il prezzo del petrolio Il future Di aprile Sul WTI C'è del 2,55 Siamo a 43 dollari Fra un po' Vi daranno Circa mezzo euro Per fare il pieno Della vostra Auto a benzina Questo ci fa Assolutamente piacere Chissà che cosa Quali stessi Strategie Sottese A questa Decisione Da parte Dell'OPEC Questo organismo Che riunendosi Concerta Prezzi E prezzini Vediamo un po' Se c'è ancora qualcosa Di interessante La stampa Giustamente Toro Cuore Granata Gol Abbiamo detto Di Glick Potevamo tranquillamente Passare il turno Contro questi Beduini Russi Ma La cazzata fatta Da Benassi Vabbè Ne abbiamo già parlato Basta Testa alta Comunque Nessun Nessun gobbo Si permetta di dire Che non abbiamo Onorato il calcio Purtroppo A volte Le partite Sono decise Da Diciamo Non mi è la parola Comunque Sono decise Da Non aspetti Non elementi Ma Compro una vocale Ragazzi Oggi veramente Sono molto stanco Anche perché La mia tensione Ve la spiegherò lunedì Oggi Accadono parecchie cose Abbiamo noi di Italia Un appuntamento molto importante Per la nostra Futura attività Il futuro prosieguo Del gruppo Mi raccomando Ricordatevi sempre Di cliccare Sulla pagina I d'Italia Sui banner Pubblicitari Di restarci almeno un minuto In questo modo Avete fatto una mini donazione Di qualche centesimo di euro Senza aver dovuto Mettere mano Al vostro bel portafoglio Se no Magari fra un po' Metteremo anche Il Paypal Fate una colletta Per mantenere in vita I d'Italia Chiaramente molti di voi Invece Farebbero molto volentieri Una colletta Per affossare Radio I d'Italia Ma la radio d'Italia Rimarrà sempre Una voce indipendente Fuori dal coro Che dice quello che pensa Ogni tanto lo dice In maniera triviale Pazienza Ma a volte È più violento Sentire delle stupidaggini Delle fesserie Da persone Che non riescono Neanche a ragionare Con la propria testa Ma sono Totalmente indottrinati Dall'idiozia Che regna Nella società moderna Un giorno da pecora Riferito a chi Alla fine ha ceduto Inchiodato E smettito Dalle intercettazioni In cui Raccomanda suo figlio A Ercole in calza Il dominus Del di Castero Delle infrastrutture Arrestato per corruzione Il ministro Maurizio Lupi Annuncia Le dimissioni La decisione Dopo un lungo incontro Con Renzi e Alfano Il PD E le opposizioni Ringraziano Quindi Per l'ennesima volta Il buon Renzi Che è stato ritratto Nella copertina Nella copertina Della nostra giornata Diciamo Ancora una volta Promette a un politico Un qualcosa Ma poi Sicuramente Non mantiene A tal proposito Mi verrebbe quasi Da citare Così spontaneamente Una pagina Che ogni tanto Seguo Chiaramente un po' Una di quelle pagine Che piacciono a me A Walter Cherubini Cioè Quelle pagine Dove ogni tanto Chiaramente andrebbe Anche verificato Fonte dell'informazione E quant'altro Ma c'è questa foto Dove ci sono Ecco Faccio un passo indietro Ieri le Iene Hanno proposto Qualcosa Ve ne riparlerò Lunedì con calma Di simpaticissimo Tre signori Abbastanza intelligenti Hanno concentrato Le Più Diciamo Appariscenti Cazzate Dichiarate Dai vari politici Italiani Ce n'è per tutti E per carità Anche Quelli di 5 Stelle Avevano cannato Delle cose Per esempio Sulla Nigeria La Meloni Aveva sbagliato Qualcos'altro Però insomma Il PD Insomma Dominava Abbastanza Dico delle frasi Che sono state pronunciate Da Fonzi Un famoso leader E non dico nient'altro Allora la prima è Mai al governo Anzi Mai al Non riesco a farlo come crozza Non sono ancora un amitatore Un imitatore di Provata professionalità Ma Mai al governo senza voto Questa era la prima Cazzatissima Mai al governo Con Berlusconi Poi Enrico Stai tranquillo E infine Se uno cambia partito Deve andare a casa Per rispetto degli elettori Ma come è possibile Credere a un cazzaro Del genere Io mi chiedo E mi domando Se non sono meglio Forse Le mie Parolacce Non lo so Ancora continuiamo Con questa giornata Veneta Anche se I nostri Veneti Non sono manco Capaci di sintonizzarsi Se siete caproni Le videari Stai sereno E dico Oh yeeey In barca con i fioi in vita al concerto di Pinfloy, navigavo qua iva dentro un dirin cipia che correva un'ora e mezza di ritardo, supplemento l'ira un'omila perché detto rapido sto bastardo, gotto il tutto il caffè, una birra, arrivo in mezzo quel casino dove c'è il parking, e c'è andai via, buon dia, buon intintin. I'm a better if in fly, 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 I'm a better if in fly. In poco tempo prima, viaggiando su quel sate, non è prevolante, in vagono e al ristorante E vede sul ponte sti fioi, a pia che va a vedere i pinfly, ritevi ma ti segui ma dove vuoi andare, sti qua c'è proprio soppai Ohi, ohi nemmo vedere i pinfly, ohi nemmo vedere i pinfly, ohi nemmo vedere i pinfly, ohi nemmo vedere i pinfly Persi, per persi, andiamo a consolarsi, andiamo a parlare di simbriagarsi E l'alba, Venezia è piena di genti e tocchi, cui tocchi si copi E tanta ma tanta mona, mese roste e mese in coma E sempre da mattina, cui sticchi sui oggi, in mezzo a una calca mai vista G'ho fatto il giornalista, e che g'ho scritto solo all'intervista Sotto caso del concerto di pinfly, ahi nemmo vedere i pinfly È il mò vero è ripienflay È il mò vero è ripienflay È il mò vero è ripienflay Siete qui per i Pinfloi? Risposta! Solitamente giusti contanti di queste dimensioni proprio a Venezia No, buco lei gli dà troppo figue, però ne ha grati, vuoi tutto tiri? Grazie! Siete qui per i Pinfloi? Io Venezia l'odio Tu manda perché io di Venezia? Perché fa schifo? Tu manda perché non tenes sei stata casa tua? E cinque in alcun me n'y ha sempre negativi sei Mi guardano molto minacciosi e mi Fasso a ver Fasso a ver Ore sei e cinque n'y licenza andando a casa Battoglio sole e rida parla piangere È gente scaturia di se qualcosaorge E non te vedi caso qu'è uno d'e'chisso, poi E se innaio a vedere il Pinfloi E se innaio a vedere il Pinfloi E se innaio a vedere il Pinfloi Oh ingamo a vedere il Pinfloi Oh ingamo a vedere il Pinfloi Innaio a vedere il Pinfloi Oh, yeah, yeah, yeah e andiamo a vedere i pin floyd e tutti ricordiamo quel storico concerto che poi insomma calamito una serie di polemiche inverosimili siamo quasi alla fine di questa nostra giornata di venerdì tenete le dita incrociate o voi che diciamo supportate la causa di noi di Italia perché oggi potrebbe avvenire qualcosa di importante chiaramente misterioso perché non posso dire di più ma seguiteci anche sulla pagina Spreaker ecco abbiamo per esempio appena dato un link tramite la regia www.pagellapolitica.it dove potete dare il voto alle principali panzane cosiddette in maniera più educata dichiarate dai vari politici o personaggi di spicco della nostra amministrazione detto questo stavamo dando un'occhiata anche al giornale di Sallusti e leggiamo l'UP si dimette eseguita la sentenza di Renzi il premier caccia il ministro non indagato e si mangia l'NCD, il nuovo centrodestra di Alfano schiaffa al Parlamento l'annuncio in tv da Vespa dopo la Expo il posto sarà dato a Gratteri un magistrato che è al governo e già ci sono una serie di parole che stridono in una maniera impressionante dalla Russia alla Cina Pirelli è in rally tra i soci per cercare un nuovo partner questo è l'articolo di Perluigi Bonora se voleste approfondire la questione oggi dovevamo fare un'intervista però non siamo riusciti ad approntare con un famoso giornalista italo-polacco Jacek Pawashinsky che salutiamo anche perché in questo momento lui è in diretta in un altro programma non radiofonico ma bensì televisivo e pertanto cercheremo di registrare il tutto per la prossima settimana non è sempre facile, credetemi, realizzare i cosiddetti anche piccoli scoop non è proprio una passeggiata di salute vediamo se la Repubblica ci fa sognare prima di concludere lupi addio in tv ma il premier non mi ha difeso strano vero? cioè stai sereno ti avrà detto il ministro si dimette ora lasciate stare per favore mio figlio la svolta dopo il vertice a Palazzo Chigi con Alfano Renzi il mio silenzio per non condannarti e va bene questo mi sa che veramente con la faccia così un pochettino a culo mi ricorda un po' così qualcuno col sorriso sulle labbra ma parecchio parecchio figlio d'introcchia a dir poco il Corriere della Sera l'Isis minaccia è solo l'inizio mannaggia loro sette vittime polacche ricordiamolo quattro italiane parecchi ancora feriti nove arresti per la strage Mattarella ha dichiarato che sono nemici della civiltà bisogna intervenire subito ecco sì l'intervento forse va fatto anche in zona lampedusa forse anche da quelle da quelle parti lì va bene allora prima ancora di passare ai saluti finali vogliamo anche perché prima abbiamo un po' scherzato sempre con questo sano sfottocalcistico che non ha nessuna intenzione di essere né violento né malvagio ma assolutamente deve restare negli ambiti della goliardia però insomma dove avevate la testa ieri basta chiederlo ad Antonello Quanto si è bella Roma quando è sera quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via quanto si è bella Roma quando piove quanto si è grande Roma quando è il tramonto quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella quanto sei bella oggi mi sembra che il tempo se sia fermato qui vedo la maestà del colosseo vedo la santità del cupolone più che mondo infame è una regola del calcio cari amici ieri avete giocato veramente male anche se però la piazza di Roma è assolutamente difficile per un calciatore ieri proprio si coglieva lo sconforto nei nei volti di personaggi come De Rossi insomma vari altri che hanno fatto anche la storia di questo blasonato club ma purtroppo il calcio è così un po' come l'arena dei leoni come i vecchi tempi del colosseo il pollice era abbastanza verso io d'ho scoperta stamattina io d'ho scoperta oggi mi sembra che il tempo si è fermato qui vedo la maestà del colosseo vedo la santità del cupolone e sto più vivo e sto più buono no non te la so mai Roma capoccia per mondo infame Roma capoccia per mondo infame coraggio sportività ricordiamoci il lo spirito appunto di De Cuberten l'importante a volte partecipare in questo caso in effetti questi tre gol 21 minuti sono sono stati sufficienti alla Fiorentina per strapazzare l'avversario però non si vive di solo calcio per favore basta insomma c'è anche il teatro non è vero Lucia impareremo a diciamo modulare la nostra voce o noi amatori però molto con quella giusta e sana ambizione non smodata e sgomitante ma con la voglia di imparare da una persona che oramai ha insegnato e ha prodicato il suo sapere e quindi non è è anche più rilassato nei nostri confronti ecco direte ma di che sta parlando sappiamo noi a volte siamo così un po' sibillini ma volutamente stavamo cercando una giusta chiosa in una giornata dove diciamo non abbiamo brillato per diciamo rispetto nei confronti della lingua italiana abbiamo spesso usato il turpiloquio ce ne scusiamo e volevamo appunto augurarvi una felice fine settimana diciamo denso di attività dello spirito del corpo trombare anche non fa male e soprattutto con il rispetto verso il prossimo rispetto che noi lo trasmettiamo tramite questo messaggio di 10 secondi di un grande o del suo grande imitatore sono io che sono contento di avere parlato con voi quindi un caro saluto agli amici di Italia e a Enrico e a tutti quanti voi vi dico che siete delle capre delle capre delle capre grazie a tutti grazie a tutti